È arrivato il momento di una sfida geometrica! Un'occasione per mangiare delle delizie rotonde! Ottima scelta! Bene male che io ho preso un triangolo! Allora io avrò un quadrato! Siete pronti per una sfida? Sì! Andiamo allora! Sembra che ci aspetta una sfida molto buona e colorata! Benvenuti alla Multidoo Challenge! Che panino puzzolente! Puzza di pesce! Il mio peperoncino non puzza! Però è disgustosa! Che bello! Io sono stata fortunata oggi! L'altro è ora! Cosa c'è di meglio? Emma, è davvero qualcosa di molto disgustoso! Vabbè, inizi tu! Sennò puzziamo tutti quanti! No! Perché così tanto pesce? Che schifo! Gli ucchi si muovono! No! Vabbè! Strano! Ok! Mangio! Perché sennò vomito! Proviamo! Che schifo! Il tuo pesce ha anche un aspetto sgradevole! Sì! Sono totalmente d'accorda! Ma no! Sento la puzza! E il sapore è terribile! Non ce la faccio più! Una volta ho visto un'immagine simile su un aereo! Ok! Ragazzi, perdonate! Ma è stato disgustoso! Ah! Finalmente è arrivato il momento di mangiare i miei biscotti! Non talmente so come mangiarli! Devo cominciare dalla crema! Uh! Che buono! Ora è il momento di... Eh! No! Mi è caduto un pezzo! Vabbè! Bevo comunque notte! Mmm! È una miscella perfetta! So cosa fare! Devo aggiungere Prima il latte Così E poi Aggiungo anche Tutti i miei biscotti Ecco Così Devo Sì Scigarare un po' Ed ecco Fatto! Ma dove ho imparato a fare queste cose? Io sono Susie Posso fare tutto Devo versare questo cocktail In questo bicchiero qui Ragazzi Augurate un buon appetito Così Avete visto che bello? Vabbè Dai Che ridere Che ridere Dai Mangi il tuo froncino Non so Nemmeno come mangiarlo È inquietante Pensavo che sarebbe stato peggio Non è poi così piccante Buono anche Mi piace Ecco Ecco Fatto No Credo Che sta per succedere qualcosa No Aiuto No Non ce la faccio più Ma Cosa? Cosa? Dai Mi nascondo questo dal tavolo Come va amiche? Cos'è questo suono? Oh Credo Che sia da piovere No Vabbè Dai Almeno Mi sono lavato Ecco Fatto Ah E che c'è qua? Allora Com'era? Buona? Oh no Perché È la seconda volta Che io ho qualcosa di cattivo Non sono un cane E io sono stato fortunato Adoro le angure Ragazzi Anch'io sono stata fortunata Ho un perro Perché dei platini deliziosi È il momento di mangiarla Che bella Mi piacciono Aspetta Non sono rotondi Sono piatti Quindi Devi pensare A A come mangiarli Ah Sì Odea Devo agitare la confezione E così Otterò delle briciole perfette Farò il cerchio Con le briciole Così Che ne dite? Ora È un cerchio Finalmente Posso mangiare E Andiamo Che buona Mi piace troppo Che velocità Mi piace Sono troppo buona Ma Perché vedete? E vabbè Adesso non fa sporco Quentin Tocca a te Sarà facile Che buona Mi piace troppo Posso avere un boccone? Solo un assaggio No È mia Allora mangi tutto Così sia Ma Cosa hai fatto? Ma perché? E prendi questo! Ti faccio vedere io! No Dai Basta Basta Prendi Smettetela È meglio Che mi aiutate Non voglio mangiare Il cibo per i cani Ma a quanto pare Non ho altra scelta E va bene Che puzza Sembra Uno stufato Marge Spero Che questo cibo Abbia Almeno Un sapore migliore No Questo è troppo Basta Con queste migliazioni Eh Basta Ci puoi scommettere Dovrei mangiare Il cibo Della ciotola Del cane Aspetta La ciotola È rotonda Quindi È destinata A Siusi E non a me Cosa? No Quentin Sai cosa? Ecco Hai un nuovo capello Ma io Cosa c'entro? È schifo Finalmente Sono stata fortunata Anch'io Uh Adoro Questa Anch'io Ho una pizza Molto buona Cosa? Perché sono stata Sfortunata? Odio Le cipolle Ecco Per cui tu Devi iniziare Vorrei Che fosse Dulce No Proviamo Susi è una pignona Susi è una pignona Dai Accelerti Aprivo la manza Che meglio è Che schifo Che buzza È come È come avere Un gatto morto In bocca No So cosa fare Per essere felice Dopotutto Ecco Prendo il salame Della pizza Di Quentin Sì perché è rotondo Vedi? Quinci E mio Dai Mangia Penso che la pizza Sia abbastanza buona Anche senza Il salame Mangia Che buona Che è Mi piace troppo Mangiare Ok Non mi piacciono Le croste Ma So cosa fare Ho i baffi Avete visto Che bello che sono Dai Vergognati Non capite Nulla Perché Ma chi è stato Strano Chi è stato Emma È il tuo turno Di fare il pieno Di energia Finalmente È arrivato il mio momento Guarda Che bello Che è Questo È Così Delizioso E come un vero Proprio Fuoco D'artificio Nella mia bocca Non vedo l'ora Di riparare Tutto Quanto Buonissimo Ma Cosa mi sta succedendo Non credo Che questo Deva accadere Ragazzi Aiuto No Non riesco Wow Che bel finale Della sfida Emma Grazie per questo regalo Sì Poveretta Iscriviti a Multidoo Challenge Per non perdere Gli stessi video Così belli E così deliziosi Qui troverai sempre L'appetite E naturalmente Il buon amore Ciao 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 Sia Cosa Ciao Ciao To Grazie per la visione!